Presidente Zaia, molte schede bianche, voi avete votato il vostro candidato, adesso si va avanti con altre votazioni, l'indicazione è sempre scheda bianca però dalla maggioranza. Da parte nostra la coerenza, abbiamo detto no a schede bianche, votiamo il nostro candidato, una persona presentabile, che ha un curriculum di tutto rispetto, che ha un pedigree unico nel suo genere e che ha dimostrato fino in fondo in questi anni di aver sempre sostenuto le battaglie che a noi stanno a cuore. Il tema liberista ma anche il tema fondamentale dell'autonomia del federalismo, quindi continueremo a sostenere ovviamente Vittorio Feltri.